Abbiamo deciso di fare questa azione dimostrativa occupando il tetto di uno dei capanni di Green Hill per riportare l'attenzione su questo posto, perché vogliamo dare la voce a quei 2500 prigionieri che aspettano la morte su un freddo tavolo operatorio senza aver mai visto la luce del sole, senza aver mai provato la sensazione dell'erba sotto le zampe, senza la possibilità neanche minima di qualunque tipo di relazione sociale con i propri simili o qualunque altro essere vivente. Loro hanno soltanto noi qua fuori a lottare e non dobbiamo mai darci per vinti e non dobbiamo smettere di far sentire la nostra voce.